Fano, Viale Piceno. Sono le 18.30 di giovedì 14 settembre. Una panda condotta da un'anziana fanese di 87 anni si è scontrata con una moto dove alla guida c'era un ragazzo 17enne giocatore della Virtus Volley di Fano. La panda, che stava procedendo verso Marotta, stava svoltando verso sinistra in direzione cavalcavia per dirigersi verso il mare. Ma l'anziana autista, non accorgendosi della corsia opposta che stava arrivando una moto, guidata appunto dal minorenne, non ha potuto fare nulla per evitare l'impatto. I sanitari intervenuti sul posto hanno constatato un trauma addominale e bacino fratturato, ma nessuna lesione agli organi interni né traumi alla testa. Vista la situazione, comunque grave, è intervenuta anche l'eliambulanza che ha portato il ragazzo al torrette di Ancona. Ad oggi la situazione dei 17enne è migliorata, tanto che potrebbe essere dimesso già dalla giornata di domani.